Era tornata nella sua città, Wuhan, per festeggiare con la famiglia il capodanno cinese Wenfang Kao, studentessa di dottorato all'Università di Padova. Bloccata dal coronavirus, rischiava di saltare la discussione della sua tesi a completamento di tre brillanti anni di studio, ma pur rispettando rigorosamente ogni prescrizione vivendo in quarantena, la soluzione è arrivata dalla tecnologia, tesi discussa via Skype da un lato Wenfang, dall'altro la commissione e il suo supervisore italiano, il professor Paolo Tarolli, che ha coordinato il lavoro della giovane studiosa cinese dal titolo che sembra una profezia, la quantificazione dell'impatto socio-economico sulla geomorfologia, insomma la ricerca delle cicatrici che l'uomo ha fatto nel corso dell'ereo sulla terra, uno studio condotto grazie all'impiego di Big Data. Una carriera che si apre per questa giovane studiosa che ha già avuto modo di fare ricerca tra la Cina, l'Italia e la Nuova Zelanda, una tesi superata brillantemente per Wenfang, salutata dal rettore Rizzuto come segnale di speranza e di forza d'animo e di vicinanza al popolo cinese.